Ieri lo sciopero all'aeroporto di La Mezzia Terme, oggi lo stato di agitazione con il blocco dei servizi nei comuni in cui lavorano. Continua così la protesta dei lavoratori precari LSUL+, che assistiti dai sindacati CGL e CISL-UIL hanno attuato ogni forma di mobilitazione per rivendicare il diritto alla stabilizzazione. Ieri, dopo il sit-in alla Mezzia, un primo passo in avanti è stato fatto. I sindacati, infatti, sono stati raggiunti telefonicamente da Barbara Lezzi, ministro per il Sud, che ha assicurato la volontà del governo di procedere prima a una proroga dei contratti nella legge di bilancio e nel 2019 a una nuova norma per la stabilizzazione. Ma ai lavoratori una semplice dichiarazione di impegno non è bastata e lo stato di agitazione e lotta è stato confermato anche per la giornata di oggi. In particolare, i precari della vallata dello Stilaro hanno continuato a manifestare davanti al municipio, incrociando le braccia in sintonia con i lavoratori degli altri comuni locridei, per richiedere ancora una volta, ancora ogni anno, risposte concrete e definitive al governo. I maggiori disagi sono registrati, oltre che a Pazzano e Bivongi, soprattutto a Stilo, dove la macchina amministrativa è andata letteralmente in tilt, visto l'enorme contributo che tali lavoratori assicurano quotidianamente alle attività comunali. I precari LSUL più, infatti, assicurano ormai da 10, 15 o addirittura 20 anni i servizi essenziali ai comuni e agli enti locali calabresi, nel più totale becero precariato. Ora, questi lavoratori chiedono che il percorso avviato quattro anni fa venga portato a compimento senza sé e senza ma.